Trink, brüdelein, trink, lasstok di sorgen zu holm. Trink, trink, brüdelein, trink, si nicht die Stirne so krall. Meide den Kummer und schweide den Schmerz, dann ist das Leben... Sì, sono disgraziati qui. Questa è la violazione, ma intanto benvenuti agli amici, fai sparire. Benvenuti agli amici. E' una violazione della privacy, questa vi denuncio, vi licenzio tutti dal primo all'ultimo, non si salva nessuno qui. No, e beh, uno ogni tanto per parlare ha bisogno della gola fresca. Va bene, sì, ecco, ecco, l'Arda. Avete notato? È pelle di cinghiale, per chi non l'avesse notato è pelle di cinghiale, voi sapete che io sono il re cinghiale, quindi, va bene, allora, era zio Ugo quello. Dunque, va bene, sì, ah, ecco, quello è dopo quando io cresco. Va bene, che brutta gente che siete. Va bene, allora, amici miei e amiche carissimi, bando alle ciance, intanto sono perfettamente in grado di leggere anche dei tolitri d'alcol. Va bene, no, scherzo naturalmente. E dai, ma intanto si fa spestare insieme, dai. E volevo dirvi che oggi, ancora una volta, abbiamo una grande trasmissione dedicata alla grande argenteria. Come vedete sono perfettamente sobri, ma un po' alticcio ed ebbro di tutte queste cose splendide che ho dietro di me, che ho su questo tavolo. Signori, c'è da veramente impazzire quest'oggi. Allora, naturalmente, Francesco, Michela, Nicoletta, Andrea, Tommaso. Eh? Eh, che devi fare? Io li volevo chiamare i my lords e le my ladies, e invece a questo punto my poor gent la voglio chiamare. Allora, signori cari, io direi così, partiamo, vogliamo partire alla grande quest'oggi. Abbiamo una scaletta, voi lo sapete, io quando faccio argenteria, quando faccio dipinti, le icone, sono, mentre su altre merceologie si fa prima in qualche modo. E questi sono oggetti che ti portano via veramente il cuore nell'essere presentati. E allora, signori, a volte si perde un po' di tempo. Però, perdonatemi, non sarà tempo perso trovare un rarissimo, rarissimo calamaio a due flaconi in argento. Chiamo a raccolta i grandi collezionisti dell'argenteria italiana. Voi sapete con quanta passione io presento gli argenti inglesi, russi, piuttosto che, non so, francesi, però l'argento italiano, signori. Eh beh, scusate. Io ve lo dico molto sinceramente, non è per una questione di campanilismo, però veramente, Paul Storr, grazie. Ma, oh, che bello. Vi sottoscrivo, guardate, ecco, facciamo il patto con gli italiani. Allora, io vi sottoscrivo, stai zitto, Tommaso, che non è il caso di fare battute, soprattutto tu. Io vi sottoscrivo, personalmente, che gli argenti italiani, anche se messi di fronte a Paul Storr, Paul Delamerie, i grandi argentieri ugonotti, signori, sono qualcosa di, come minimo, altrettanto valido. Come minimo, pensate a un argento romano uscito dalle mani di spada, pensate a quello che vi pare. Adesso, in questo momento, guardate, pensate a una bella cosa, pensate a questo eccezionale calamaio, guardate che bello, eh, regaliamo volendo anche la penna, doca, eh, signori, guardate che raro da impazzire. 1825, 1800, non è, ha un punzone che purtroppo, ecco, purtroppo il difetto degli argenti italiani in televisione, sono spesso dei punzoni inintelligibili, inintelligibili totalmente. Comunque, è punzonato qui, con la classica croce, che segue il punzone, eccola lì, che segue il, vedi? Eccola lì, lo vedi? Perfetto. E poi c'è naturalmente il punzone argentino, che segue il famoso punzone mitico della lanterna, eh, è come quando, non so, si parla a, pensiamo a Roma, le chiavi incrociate, all'ombrellino del Camerlengo, pensiamo a Venezia, al punzone San Marco, al Delfino. Questi sono i punzoni che ci devono fare impazzire l'aratro del Lombardovè. Signori, queste sono le Milano, queste sono le grandi, grandi, grandi immagini. E noi scherziamo il più delle volte, signori, ma di fronte a questo oggetto, vogliatemi perdonare. Signori, siamo di fronte al capolavoro, Genova, 1825, guarda ancora con le sue opaline in vetro, bleu, come lo chiamo io, quel bleu vagollì, eh? E poi, e poi, signori, la particolarità di questo splendido calamaio con vassoio è di essere calamaio con scultura a tutto tondo. Questa è una rarità straordinaria per questo calamaio. Voi sapete che quando trovate un calamaio con scultura, e comunque un oggetto in argento, vi è più italiano con scultura a tutto tondo, signori, deve costare un patrimonio. Io, poco tempo fa, ho visto, ho offerto in una mostra, di cui non dico il nome, non dico niente, ma è una persona carinissima, tra l'altro un amico, eccetera. Aveva un calamaglietto, niente di speciale, ve lo dico sincero. Ponzoni Milano, 1.840, e ripeto, ero a Roma, o mi credete o non mi credete, questa è la verità, lo vendeva a 6.500 euro. Questa è la realtà, un solo flacone, uno. Milano, 1.840, brutto, no, banale. Questo è una cosa spettacolosa. Signori, io però un'ora sola ho, e un'ora sola devo fare per forza di cose, devo correre. 4.400 euro. Ditemi voi, se questo calamaio splendido, sbalzato e cesellato, il metro magari, gentilmente, se c'è, se non importa, va bene. Ecco, grazie, 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 grazie. Signori, vi do le dimensioni, ma le dimensioni artistiche le vedremo insieme a casa, perché questa è la realtà, 23 centimetri e mezzo per 20. Signori, vi prego, entrami solo un attimo ancora nel volto di questa scultura, di questa vittoria straordinaria, e di questa, scusami, baccante straordinaria, di questa danzatrice con le ghirlande, e poi vado a vedere un'altra cosa straordinaria. Intanto qui c'è la penna con cui vi ho dimostrato essere oggetto vero, essere oggetto giusto.